Buongiorno a tutti, io sono Marco e benvenuti nella mia cucina. Anche oggi utilizzeremo la zucca e d'altra parte se non la utilizziamo oggi, quando dobbiamo utilizzare questo fantastico frutto? Delizioso, versatile ed economico, oggi prepareremo un pan brioche, i cui ingredienti principali appunto saranno la zucca e il cioccolato. Per prima cosa tagliamo e spolpiamo la zucca, la inforniamo per circa 30 minuti con la buccia, giusto il tempo di farla ammorbidire. Nel frattempo che la nostra zucca cuoce, cominciamo a preparare l'impasto. Lo divideremo in due, faremo una sorta di biga di preimpasto e lo faremo lievitare fino a quando il suo volume non sarà raddoppiato. Mentre la zucca è in forno, cominciamo a preparare la biga, quindi in planetaria con il gancio inseriamo farina, acqua e il lievito di birra. Facciamo girare l'impasto, fino a quando non si staccherà completamente dai bordi. A quel punto lo mettiamo in una bull e lo copriamo con la pellicola. Lo faremo lievitare fino a che il suo volume non sarà raddoppiato. Quando la zucca sarà pronta, la spegliamo dalla sua buccia e la frulliamo, aggiungendo un pizzico di acqua, quella necessaria per ottenere una crema liscia e spalmabile. Ora la lasceremo un attimo da parte per farla raffreddare. Nel frattempo trattiamo il cioccolato in maniera molto grossolana. Ora che la nostra zucca è pronta, cotta, frullata e raffreddata, il nostro cioccolato è bello sminuzzato, il nostro impasto avrà raddoppiato il suo volume. Quindi ora possiamo procedere con la seconda fase dell'impasto. Sempre in planetaria con il gancio, aggiungiamo l'impasto lievitato con la farina e la crema di zucca ottenuta. Facciamo gelare la macchina fino a quando gli ingredienti non saranno ben amalgamati. A questo punto inseriamo il sale, gli aromi e lo zucchero semolato. Diamo il tempo all'impasto di assorbire bene gli ingredienti. Solo quando l'impasto sarà bello in corda, quindi bello elastico e si staccherà dai bordi, aggiungiamo il burro, poco alla volta. Quando anche il burro verrà completamente assorbito, aggiungiamo il cioccolato a scaglie. Diamo una veloce impastata con le mani sul piano di lavoro e lasciamo riposare il nostro impasto in una bowl coperta da pellicola trasparente. Passata circa una mezz'oretta, tre quarti d'ora massimo, in cui il nostro impasto ha puntato, vale a dire ha cominciato a lievitare, rompiamo la lievitazione e cominciamo a pirlare i nostri pan brioche. Io li farò di circa 70 grammi l'uno, perché voglio fare dei pan brioche separati, ma voi ovviamente potete utilizzare l'impasto come preferite, o fare una torta intera, magari composta da tanti bocconcini, oppure dargli la forma che volete o il peso che preferite. Una volta deciso forma e peso, faremo lievitare i nostri pan brioche per circa un'oretta e mezza, sempre al massimo a 28 gradi. Dopodiché li cuoceremo a 170 gradi per circa 12-15 minuti. Spezziamo il nostro impasto al peso desiderato. Lo pirliamo e lo mettiamo sulla placca ricoperta di carta da forno. Lo faremo lievitare per circa un'oretta e mezza. Mentre il nostro pan brioche è in forno, aggiungiamo a del miele un goccino di acqua, preparando così una sorta di sciroppo, che spennelleremo sul nostro pan brioche una volta che sarà sfornato. Grazie! Grazie a tutti! ed ecco qui il mio pan brioche zucca e cioccolato ottimo per una colazione o una merenda autunnale se qualcuno venisse in mente di storcere il naso perché insomma c'è la zucca e la zucca non si addice a fare un pan brioche o un dolce beh io vi garantisco che se per caso doveste provare a farli ne rimarrete piacevolmente soddisfatti in questa ricetta come a roma io ho utilizzato come avete visto la cannella non ne ho messa molta dire la verità infatti non è che si sente proprio tanto caso mai non vi dovesse piacere la cannella potete tranquillamente sostituirla con della scorza di arancia oppure della vaniglia comunque qui sotto in descrizione come sempre troverete la ricetta per prepararli anche voi e se il video dovesse esservi piaciuto io vi invito a lasciarmi un like iscrivervi al canale e a cliccare sulla campanella così da rimanere aggiornati sui prossimi video che pubblicherò io direi che questo video è tutto noi ci vediamo la prossima volta ciao ciao